Grazie a tutti Stefano Bini, Stefano Bini, i due Stefano che premiono la terza classificata, bolsa in pelle dello sponsor Elio Masi, shampoo capigliare, idratante, linea organic, away, convenzione di viaggio, offerto da Dolce Diva, grazie agli sponsor che hanno reso possibile questo premio. Quanti premi? Stefano, puoi dare un premio? Mi ho recuperato il premio. Tu sei tutti, voi Stefano, i due Stefano sono vincolati da sponsor, questo non si può fare, questo non si può fare, quindi stasera diventiamo nella condizione. Senti, Stefano Bini e Stefano Bini, ma ti hanno mai chiamato per presentare un evento o a lui per fotografare, no? A lui sì, capito? Ti rubai il lavoro solo perché è quasi omonico, cognoni. Stefano, mio grande amico, Bini, Stefano Bini, grande amico del Massimo, poi sono diventati grandi amici anche miei, però in realtà si sono incontrati qua per casualmente, ma si conoscevano già voi tutti e due. Senti, pensa un po', cazzo da vita, allora Stefano Bini, vieni qui, Elisa. Eccomi, arriva, arriva, arriva. Questa la leggi tu, leggi tricia, vai. Vince la fashion miss Emilia Masi, la numero 6, Deborah Sarti. Complimenti Deborah. Vai, vai con la musica. Allora, premia Candy Look insieme a Alex Leardini per la fashion miss Candy Look. Candy Look. Ecco che arrivano con i premi. Vittoria. Qui ha ancora tanti premi. Fornire la Dolce Diva, Candy Look. Giurateci siete. La fashion. E sei bello. Wow. Alex Leardini detto Dio da noi alla finale nazionale perché lui ci parla dall'alto, dalla regia dell'altro mondo studios, dall'assù che dà direttive. Chi abbiamo però? Manca Candy Look e chi c'è per Candy Look? Viene, sciarca, sciarca per Candy Look. Benvenuta e grazie per essere qui con noi. Cecilia che viene qui con noi. Cecilia Baldi, prima non c'eri, vieni qua con noi per venire. Grazie Cecilia. Anche Cecilia, finalista nazionale con noi delle precedenti edizioni. e a vincere la fascia Miss Candy Look, la numero 14, Savari Calvario. Complimenti Savari. Senti che base ti hanno messo stamattina. Facciamo una foto di gruppo. La foto, la foto, la foto. Partita è partita la nostra persona di Castro. E anche qui la frase spontanea del pubblico. Cos'è che devi dire? Asia, cosa devi dire? Cosa stavi dicendo? Adesso vi faccio cantare una canzone. Asia Bisogni ha detto che vuoi cantare prima della fine dell'evento o presentare? Quando hai cantato? Bene, adesso a premiare chi c'è? Io? Che c'è? Devi spagliare. Anna Spini. Spina, spina. Anna Spina, scusami. Asi Bisogni e Ginevra. Dov'è Ginevra? Ginevra di Nolfi. Ginevra, ci sei? Bravissima. E si conclude in bellezza proprio. Io mi contorno di Miss per fare la prevenzione. Però la fascia la mette Carmelo. Per me, mio delegato. Anche perché adesso ti tocca prendere le lecce del patron. Da adesso in poi. Perché io da adesso vengo meno. Allora. Carmelo Tornatore premia la vincitrice per conto del patron. Alla prima classificata, che comunque ha gli stessi identici diritti di tutte le altre Miss che abbiamo premiato questa sera, solo che ha ricevuto più voti dalla giuria. Io conto come gli altri giurati, quindi chiaramente il voto della giuria è veramente democratico. e a vincere questa fascia è la numero... Aoooo! Vediamo un passetto, viena! Nove, Virginia Farsatti! Ma sopra! Uno bako il regno. No, tiboro, vieni qua con te. la foto la faccio anch'io facciamo fare una passerella alla prima classificata poi facciamo l'efforto finito con tutte le messe applauso spontaneo a te le messe perché è lo spirito della finale nazionale grazie di nuovo a tutti il mappamondo per l'allestimentazione reale grazie alla pizzeria alla chiesina a borderline per i nostri per il backstage Marco Conciolini per i nostri per Andrea Sanzeghi per Cediva Petra e Sharma di Kenny Luc Emiliano Maglini per Emilio Masi poi è per lo Stefano Vigaldi Emilio Massimiliano Gavazzi e Michele Pasquini per le foto Carmelo Tornatore eccolo qua l'Italia di Scout per l'Emilia Romagna ragazzi grazie a tutti e grazie a voi pubblico per essere stato qui adesso consegno il microfono se mi basso un attimo la musica chiedo alle ragazze lasciate di non abbandonare il palco poi perché devo dare le convocazioni consegno le convocazioni ok? grazie lasciamo pure la musica grazie caro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.